Da segnalare, una moltitudine di incendi in Sardegna, tanto che la regione è stata costretta a fermare lo stato di emergenza, la misura fondamentale per attivare lo stato di cambiamento da parte del governo. In provincia di Ulistano, tante fiamme e più di 20.000 yetteri andati a fuoco, incalcolabili danni a attività economica, negozi, attività commerciali, molti animali uccisi dai rughi, le persone che sono state fatte evacuare dalle zone, più rischio sarebbero circa 1.500. Le fiamme di Sardegna e dei boschi sono andate a diffondere anche in diversi centri abitati, i raghi di loro ancora non sono calmati e per tutta la giornata di ieri, ma penso che ci saranno anche oggi, i vigili del fuoco si sono dovuti operare, mobilitare e spegnere questi vasti incendi. Insomma, la regione Sardegna si trova in una condizione negativa ostica perché ha a che fare con tutti questi incendi che ovviamente portano numerevoli danni, ingenti, entità elevate. Grazie a tutti, il video termina qua, un saluto caro da Leonardo, un narratore italiano.